CRE-SI-CRE! La giornata del CRE, più pazza che c'è! A CRE-SI-CRE i due organizzatori del CRE. Partiamo da Son Gavazzo. Come ti chiami? Annalisa. Eccoti qua, allora parlaci un po' del vostro CRE. Allora siamo circa 70 ragazzi, più gli animatori e più gli aiuto arriviamo a circa 85-90 ragazzi. È un CRE un po' speciale perché gli animatori sono tutti un po' creativi e quindi faremo delle cose anche nel comune. Attenzione agli extraterrestri che girano. Ah sì? Avete preparato qualche scherzettino per la popolazione? Eh già, eh già. Sarà venerdì prossimo il Carocchia sotto le stelle, arriveranno degli extraterrestri dal cielo e quindi attenzione. Molto bello! Parloci un po' che laboratori fate, come è strutturato, quando avete iniziato, quando finirà il vostro CRE? Allora è iniziato già da una settimana, quindi è già la seconda settimana di CRE questa. Ci sono dei laboratori che vanno da laboratori che creano delle tegole particolari. Poi c'è il laboratorio per i piccoli, quindi una specie di arte attacca. Ci saranno poi i laboratori invece della terza e della quarta che costruiranno invece l'universo. Quindi cose particolari. E poi c'è il laboratorio dedicato ai più grandi, la costruzione del teatro finale, quindi delle scene di tutto. I bimbi sono sempre carichi, sempre allegri, sono contenti di partecipare al vostro CRE? Sì, tantissimo! Soprattutto con le animatrici, gli animatori, che sono simpaticissime. Simpaticissime, soprattutto la coordinatrice. Eccola, una a caso, una a caso. Invece qui andiamo a conoscere il resta responsabile del CRE di Cerete, Diego. Diego. Ciao Diego, benvenuto al CRE di CRE. Parlaci un po' invece del vostro CRE. Nostro CRE siamo un centinaia di bambini, più una ventina di animatori adolescenti e ragazzi sui 18 anni, 20 anni, più le mamme che ci aiuteranno nei laboratori e durante le gite. Che tipo di laboratori? Facciamo laboratori un po' di murales per decorare il comune di Cerete. Dopo si creeranno delle magliette, quest'anno non le abbiamo prese, uguali a tutti quelli degli altri game, ma le faremo noi, le disegneremo noi. Dopo ci saranno quelle fotografie del giornalino, ci sarà un traforo dove si creeranno delle stelle, degli UFO come ricordo. Quelle fotografie faremo anche con loro, un DVD con tutte le fotografie del CRE che dopo servirà per un progetto solidale al Mato Grosso. Qual è il progetto più seguito da parte dei vostri ragazzi? Quello più gradito? Quello più gradito è un po' difficile, sono abbastanza divisi. Sono quelli che gli piace ballare, quelli che gli piace colorare, equamente diciamo. Tutti i laboratori sono abbastanza sentiti. Avete fatto anche laboratori di ballo? Sì, ci sono i balletti. Devono iniziare perché comunque abbiamo iniziato soltanto da due giorni. Quindi un carico è iniziato fresco, fresco. Sì, sì, è appena iniziato, abbiamo iniziato una settimana in ritardo dagli altri, però la prima cosa che abbiamo voluto fare è fare il gemellaggio con i ragazzi di Sondavazza. E mi sembra assolutamente una bella cosa. Siete pronti per ballare? Prontissimi! Pronti per ballare? Prontissimo! E allora tutti in pista! Uno, due, tre... Vieni, vieni! Do dritto davanti a me, ma guarda lì che cosa c'è, ma quello là che cosa fa? Vieni a dotare sul piazzale con il vaso lì in su, magari a terra non c'è, voglio sapere di più. E su! Guardando il blu, vieni, 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 vieni guarda che stile c'è l'amore di cenette andiamo al blocco cazzo in su guarda qui che ve il giallo azzurro sopra di noi Sì, è vero. Sì, è vero. Ma guarda come la porta indesco la mascherina. Eccezionale. Mano. Eccoli le mani, bravi. Bianco. Bianco. Bianco, bianco. Mano, mano. Bianco, bianco. E... Bianco. Bravi. Bravi. Collo. Scorri. Bravi. E... Sofio. Vai. Collo, collo. Sofio, sofio. Collo, collo. Sofio, sofio. Collo. Sofio. Bravi. Da capo. Spalla, spalla. Piede, piede, spalla, spalla. Mano, mano. Bianco, bianco. Ok. Collo, collo. Sofio, sofio. Collo, collo. Sofio, sofio. Piede, piede, spalla. Bravi. E poi... Guardi che la stiamo già imparando tutti. Ehi, salta! Ok. Ne aggiungiamo un altro. Così, così, così. Guardi che la stiamo, 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 guardi che la stiamo.